Riforma del Rio per le scuole più costi e meno servizi, l'allarme lanciato dall'assessore provinciale Ruscelli. Siamo tutti disabili, lo psichiatra Alessandro Meluzzi ad Arezzo, ospite del convegno promosso dalla pastorale sanitaria. Progetto ESCAR, la prevenzione passa dalla scuola con la camminata della salute. La Madonna del parto di Piero della Francesca, protagonista San Domenico. Museo stradale per le vie di Arezzo, la disabilità in mostra con il progetto Manifestarti. Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'informazione su TSD. Da venerdì sera non si hanno più notizie di Alessandro Badì, 49 anni, residente a loro Ciuffenna, scomparso dopo un incidente automobilistico a Terra Nuova Bracciolini. Vicino a Ganghereto è stata rinvenuta la sua automobile, ma di lui nessuna traccia. Le ricerche sono partite a seguito della denuncia della scomparsa da parte della famiglia venerdì sera. Sono state allertate tutte le forze di polizia, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti anche con unità cinofile. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di San Giovanni Valdarno. Ed è morto ieri nel tardo pomeriggio nella sua abitazione alle porte di Arezzo. Un improvviso malore ha ucciso prematuramente Enrico Mattesini, 59 anni, da poco compiuti, noto editore ed imprenditore aretino. Un uomo libero di cultura e amore per la cosa pubblica. Negli anni 70 era stato ai vertici nazionali della gioventù della democrazia cristiana, poi consigliere comunale ad Arezzo e consigliere regionale. Dopo una lunga pausa e ritorno nel 2004 alla politica come consigliere comunale con una sua lista civica nel periodo della seconda giunta a Luccherini. Fondatore e direttore editoriale della casa editrice Elimina, negli ultimi anni era stato impegnato con la sua nuova casa editrice fuori onda. Al figlio David, collega e amico e a tutta la famiglia, vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione e dello staff di TSD. Anche il sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Enrico Mattesini, amico di lunga data. E passiamo adesso alla riforma del Rio per le scuole aretino, meno costi e meno servizi. L'allarme è lanciato dall'assessore provinciale Ruscelli, il servizio. Secondo quanto emerge dal dossier UPI relativo a quelli che saranno gli effetti del decreto del Rio, si va verso una riorganizzazione non funzionale, a discapito in particolar modo dell'edilizia scolastica. Sì, il decreto del Rio attualmente in discussione prevede il passaggio della competenza dell'edilizia scolastica sulle scuole superiori dalla provincia che attualmente la gestisce ai comuni. Questo produrrà un aumento non indifferente dei centri di costo, ad esempio in provincia di Arezzo passeremo da un centro di costo attuale, quello appunto della provincia, a 13 centri di costo corrispondenti ai 13 comuni in provincia di Arezzo che sono sedi di edifici scolastici, di poli scolastici. Chiaramente il peso maggiore graverà sul comune capoluogo, il comune di Arezzo, che vedrà la necessità di doversi occupare di altri 22 edifici scolastici che sono frequentati da circa 8.000 studenti. Vi sarà poi una distribuzione anche dei mutui residui legati agli investimenti che in questi anni sono stati fatti sulle scuole e anche qui, ad esempio, il comune di Arezzo dovrà accollarsi qualcosa come 12 milioni di euro residui di mutui, ma anche altri comuni, penso a San Giovanni e Valdarno 4 milioni di euro, Montevarchi quasi 2 milioni, insomma questi 13 comuni avranno un bel da fare, ma non è chiaro ancora operativamente come dovrà svolgersi questo trasferimento. Tra l'altro la competenza dell'istruzione, quindi degli indirizzi scolastici, rimarrà a quello che rimarrà delle province, alla struttura che rimarrà delle province, mentre la gestione degli edifici sarà divisa tra 13 soggetti. L'impressione è che se la matematica non è un'opinione che non ci sarà almeno su questa competenza dei risparmi, perché passando da un centro di costo a 13 sicuramente i costi aumenteranno in maniera inevitabile. E aspettando l'approvazione del disegno di legge del Rio e il suo testo definitivo, regioni toscane e sindacati si trovano d'accordo e unite su un punto, la tutela del personale e dei patrimoni e dei bilanci delle ex province, i quali dovranno andare di pari passo alle funzioni trasferite. I sindacati con le segreterie toscane della funzione pubblica sono stati incontrati stamani dall'assessore alla Presidenza e al rapporto con gli enti locali Vittorio Bugli, assieme alla vicepresidente della Toscana Stella Targetti e all'assessore al lavoro e alle attività produttive Gianfranco Simoncini. L'incontro era stato chiesto dai sindacati che a due anni dall'annunciata abolizione delle province continuano ad essere preoccupate per la non chiarezza con cui viene trattata la questione che riguarda il personale. Siamo tutti disabili, lo psichiatra Alessandro Meluzzi al convegno promosso dalla Pastorale della Salute della Diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, il servizio. Incontrare la disabilità, questo è il tema al centro del convegno che si è tenuto sabato 16 novembre presso il Teatro Mecenate di Arezzo. A promuoverlo l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria insieme al Centro per l'Evangelizzazione e la Catechesi, la Pastorale della Famiglia e quella dei Giovani. Al centro del pomeriggio l'intervento dello psichiatra Alessandro Meluzzi sul tema una comunità diversamente abile per educare all'accoglienza. La parola chiave è proprio la parola incontrare, direi prima ancora che soccorrere, prima ancora che solidarizzare, prima ancora che aiutare, perché incontrare vuol dire avere uno sguardo umano che si fissi in alto sguardo umano, si china intanto a sentire quali sono le necessità, quali sono le soggettività, le volontà. E poi disabilità vuol dire tutto e vuol dire anche nulla per certi versi, quali e quante disabilità ci sono nel nostro mondo. Tutti siamo destinati a diventare disabili diventando vecchi, tutti siamo destinati a diventare disabili quando siamo ammalati o fragili, tutti siamo stati disabili quando eravamo bambini, tutti siamo un po' disabili, quindi parlando di disabilità parliamo innanzitutto di noi stessi. L'obiettivo della giornata era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul confine labile tra abilità e disabilità e sull'importanza della comunità nell'ascolto e nell'accoglienza. Disabilità vista non come qualcosa da emarginare o da vedere in una sorta di vetrina, ma una disabilità in cui siamo tutti alla fine parzialmente abili, per cui tutti dobbiamo sentirci disponibili all'incontro, all'ascolto, all'integrazione, all'inclusione nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Nei primi nove mesi dell'anno sono stati 2259 casi di violenze e maltrattamenti approdati negli ambulatori dedicati al Codice Rosa nelle 10 aziende sanitarie toscane in cui è in funzione. E dal primo gennaio 2014, quando entreranno nel progetto anche le sei aziende sanitarie mancanti, il Codice Rosa sarà attivo in tutta la Toscana. A presentare i dati aggiornati l'assessore regionale al diritto alla salute Luigi Marroni che ha spiegato. Nelle aziende in cui il Codice Rosa viene applicato sta dando buoni risultati, contribuendo a far emergere casi di violenza che altrimenti resterebbero sommersi. Ad Arezzo il servizio è attivo dal gennaio del 2012 e nel primo anno sono stati trattati 241 casi di abusi sia su adulti che su minori. 127 invece i casi registrati ad oggi nel corso del 2013. Progetto ESCAR, gli studenti protagonisti della camminata della salute. Vediamo. La prevenzione delle malattie cardiovascolari passa anche dalla scuola. Dopo la prima fase di raccolta dati, il progetto ESCAR Education School Cardiovascular Arezzo ha raggiunto un'altra tappa importante con la camminata della salute nei parchi cittadini. Si tratta di un programma di educazione scolastica sanitaria promosso dall'ASL 8 di Arezzo in collaborazione con la provincia e con il contributo del liceo artistico coreutico Piero della Francesca. L'obiettivo è quello di promuovere corretti stili di vita coinvolgendo gli studenti e le loro famiglie per ridurre i fattori di rischio legati alle patologie cardiovascolari. La mattinata si è conclusa al Parco Pertini con una colazione della salute offerta in collaborazione con col diretti Arezzo. Il nostro ruolo della USDO, il nostro ruolo di medici, di infermieri, abbiamo sempre detto dall'inizio, siamo dei tecnici che abbiamo voluto mettere a disposizione dei dati scientifici validati in modo che possiamo negli anni confrontarli e utilizzarli al meglio per i ragazzi perché alla fine dei cinque anni vogliamo che escono veramente bravissimi studenti, gente del futuro ma che siano anche in grado di saper gestire il loro proprio stato di salute perché come abbiamo sempre detto un corpo sano fa diventare una mente ancora più sana e più forte. Il liceo Piero della Francesca ha coinvolto all'interno del progetto ESCAR dopo la prima fase si passerà ad una concreta di attuazione con il coinvolgimento della classe multimediale. Con la sezione multimediale e grafica cureremo proprio una campagna di informazione a tutti gli altri ragazzi di tutte le altre scuole, a tutte le altre famiglie perché lo stile di vita sia comunicato anche in un modo efficace. La scuola, la ASL, le istituzioni vogliono anche fare in modo che questo messaggio arrivi a tutti e perché realmente le persone cambino stile di vita. Costituire subito il Comitato regionale per la qualità dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Questa è la richiesta che Francesco Romizzi, assessore del Comune di Arezzo con delega al ciclo delle acque, ha formulato con una lettera inviata al governatore della Toscana Enrico Rossi e ad alcuni assessori e consiglieri regionali. La sua costituzione, ricorda Romizzi, è prevista dalla legge regionale 69 del 2011. Gli organi dell'autorità idrica toscana sono operativi dal 26 ottobre dello scorso anno ed è quindi arrivato il momento di dare completa attuazione alla legge. Ricordo, prosegue l'assessore, che in base all'articolo 47 della norma regionale il compito del Comitato è segnalare eventuali criticità e formulare proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle istituzioni dei sindacati, delle categorie economiche, delle associazioni dei consumatori e del Comitato Toscano dei Movimenti per l'Acqua. L'orgoglio della maternità e il valore della donna al centro del docufilm dedicato alla Madonna del Parto di Piero della Francesca. La proiezione in prima nella Basilica di San Domenico ad Arezzo. Vediamo. La suggestiva cornice della Basilica di San Domenico nel centro storico di Arezzo ha ospitato l'anteprima assoluta del docufilm interamente dedicato alla vita di Piero della Francesca e alla storia della Madonna del Parto. con le riprese girate a Monterchi per la regia di Alessandro Perrella. Ospite d'onore della serata è il compositore della colonna sonora, Monsignor Marco Frisina, celebre autore musicale e responsabile artistico di numerose manifestazioni culturali, tra cui il Festival di Musica Sacra di Cortona. Mi sono lasciato ispirare proprio dalla dolcezza della gesto di questa donna madre pronta per la nascita che tiene la mano sul grembo quasi sentendo i battiti del cuore di questo bambino, un'apoteosi della maternità e anche di Maria come madre, madre dei credenti, madre di Cristo. Ho voluto ricreare quell'intimità materna che la raffigurazione di Piero suggerisce. Proprio il tema della maternità, espressa con fierezza nell'opera di Piero della Francesca, è stato uno degli elementi chiave che hanno orientato la scelta del regista. La cosa più importante è che è riuscito a fare Piero con un solo capolavoro, che è la Madonna del Parto, perché è considerato uno dei dieci capolavori più importanti nel mondo, è riuscito a dare dignità alla donna. C'è questa maternità vera. Piero è fiero di vedere questo nono mese di gravidanza e la veste bianca che ovviamente si vede sotto e con una mano appoggiata qui. Ha dato la fierezza e nobiltà alla donna. Domani dalle 9.30 alle 12.30 manifesteranno davanti alla Prefettura di Arezzo le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco di Arezzo. L'iniziativa verrà in occasione del presidio che si terrà domani pomeriggio a Roma davanti a Palazzo Chigi. Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco manifesteranno contro il disegno di legge di stabilità e si legge nella nota stampa che hanno diffuso per la difesa della dignità professionale e della specificità funzionale degli operatori del settore oltre che per il diritto dei cittadini ad avere una sicurezza e un soccorso pubblico efficiente e qualificato all'altezza di un paese civile. Un museo stradale per le vie della città. La disabilità in mostra con il progetto Manifestarti il servizio. La disabilità incontra l'arte con l'inaugurazione del primo museo stradale e un'iniziativa che rientra all'interno del progetto Manifestarti. L'idea è quella di utilizzare gli spazi pubblicitari per costruire il primo museo stradale perché al posto delle pubblicità verranno affissie le opere che i ragazzi con disabilità hanno prodotto tanto tempo in laboratori di arte e terapia. Questo è un progetto piuttosto ampio che è stato finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità e portato avanti, ideato da una serie di associazioni che sono l'Elettra, la Fabbrica del Sole Onlus, il velocipede e Autobahn. E all'interno ci sono oltre a questo tantissime altre azioni progettuali. Qual è la funzione che l'arte e terapia svolge nei confronti di persone con disabilità? L'arte e terapia ha come obiettivo quello di non creare cose belle, ma più che altro l'obiettivo è quello di condividere emozioni, di dare forma alle emozioni, cercare di costruire insieme uno spazio. Le opere dove saranno esposte? Nel circuito 2, così si chiama, il circuito di Arezzo Centro della pubblicità e poi in quattro spazi, sei metri per tre, in punti strategici della città. Fino a quale data saranno visibili? Da oggi saranno visibili i manifesti quelli in formato più piccolo, dal 20 saranno esposti quattro manifesti più grandi e saranno fuori fino al 2 di dicembre. Con il record di 10.000 visitatori in tre giorni, circa il 22% in più rispetto allo scorso anno, Agritour chiude la dodicesima edizione. Il Salone Nazionale dell'Agriturismo e dell'Agricoltura Multifunzionale, ospitato come sempre da Arezzo, Fiere e Congressi, firma un grande successo e rappresenta un settore che sembra non risentire della crisi. Circa 40 tra seminari e convegni, 30 lezioni nei master dedicati agli operatori, 30 cuochi, ospiti dell'area del cooking show, 20 esperti ad animare il nuovo spazio Agora, con corsi gratuiti per portare piante da frutto e olivi. Oltre 50 laboratori per la sezione dedicata ai più piccoli, gestita dalle fattorie didattiche. Questi alcuni numeri di questa edizione di Agritour, a cui si aggiungono gli 80 buyers internazionali, provenienti da 15 diversi paesi, che si sono confrontati all'interno di un workshop con 600 realtà del mondo dell'agriturismo. Rieducare attraverso lo sport, firmato il protocollo d'intesa tra WISP e carcere di Arezzo. Questo è il tema al centro della puntata di oggi, della rubrica Corner, l'angolo dello sport. Vediamo. Un protocollo d'intesa che permetta ai detenuti di praticare attività motorie sportive e di formazione, fornendo anche momenti di reinserimento sociale una volta scontata la pena. È questo l'obiettivo principale che sta alla base dell'accordo firmato lo scorso 8 novembre tra il Comitato Aretino della WISP e la Casa Circondariale di Arezzo. Rieducare attraverso lo sport è il titolo del progetto volto alla promozione di stili di vita attivi nella quotidianità carceraria. Le prime iniziative partiranno già dal mese di dicembre. Inizieremo proprio però con un'attività, diciamo così, di base che valga per tutti. Dopodiché cominceremo a sviluppare un lavoro eventualmente con le attrezzature adatte che vanno, come dire, anche queste attrezzature vanno reperite, vanno comperate, come si dice, e di conseguenza a un momento in cui ci sono a disposizione possono essere sviluppate attività fisica, sportiva, sia individuale che anche quella di squadra. Pur sapendo che gli spazi per le attività di squadra non sono regolamentari, ma che comunque troveremo il sistema perché possono essere fatti e un domani, diciamo, il detenuto che ritorna libero cittadino, se ovviamente gli è piaciuto fare un determinato sport, lo può fare tranquillamente in qualche altra società. I corsi di formazione saranno affidati a personale qualificato WISP e proveniente dal mondo sportivo. Fare un corso di formazione faccio per esempio per arbitri di calcio, per arbitri di basket, per arbitri di pallavolo. Al di là del regolamento tecnico ci sono regolamenti comportamentali che secondo noi sono importanti per riabilitare il detenuto e nello stesso tempo per riavere, come dire, un minimo sul piano comportamentale del rispetto della persona, del rispetto dell'avversario, del rispetto altrui che lo sport è ovviamente educa in questo senso. La stagione del Teatro Petrarca ospitato anche quest'anno dall'auditorium Mecenate si apre con un omaggio a Franca Valeri in occasione dei festeggiamenti per i suoi 93 anni. A farle gli auguri domenica 24 novembre ci sarà un ospite d'eccezione Alberto Arbasino scrittore, saggista e giornalista che alle 18.30 guiderà l'incontro pubblico dal titolo omaggio a Franca Valeri. Proprio l'attrice milanese andrà in scena a seguire alle 21.15 sempre al Teatro Mecenate di Arezzo assieme a Pino Strabioli con lo spettacolo Parliamone e un excursus sul Novecento e sui personaggi e le vicende che lo hanno animato sui libri e gli sketch più famosi che hanno fatto la storia di Franca Valeri. Bene, questa era l'ultima notizia di questa edizione del nostro notiziario a voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti.